Siamo nel Governo nazionale dove facciamo valere coerentemente e rigorosamente questi nostri principi. Stiamo lavorando adesso alla legge di bilancio. Ci sono due cose che vorrei sottolineare delle tante che stiamo seguendo nella legge di bilancio. Ci sono due idee, anche posso dirlo mie, che sono una, quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole edificare una casa, ristrutturarla, aprire una farmacia, aprire un ristorante. Ho parlato in questi giorni con l'Associazione Nazionale di Contruttori Italiani, soltanto dal punto di vista dei posti di lavoro, prevedono che questa norma, una volta in funzione, produrrà più di un milione di posti di lavoro. Quindi è qualcosa che anche da questo punto di vista è molto importante. E poi tutte le altre cose le sappiamo, metteremo in campo il meglio di noi per riuscire ad ottenere queste cose, anche se magari non sono le ricorde dei nostri alleati. Grazie.